Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi presento Death in Space, piccolo, grande, come vedremo, gioco di ruolo a cura degli stessi creatori di Mark Borg, un gioco di ruolo di stampo fantasy che è veramente molto interessante ed è stata, secondo me, due anni fa un piccolo capolavoro perché sono riusciti a portare al tavolo un regolamento snello, veloce e un manuale davvero accattivante questa volta hanno voluto creare un'ambientazione sci-fi, spaziale, horror che si chiama Death in Space, ovviamente sempre pubblicato dalla Free Aligan che io ringrazio immensamente per avermi offerto questa copia per la recensione e ve lo ricordo ora, ma ve lo dirò anche a fine video il gioco al momento è soltanto come Mark Borg, fino a che qualche editore non lo porterà in Italia soltanto in lingua inglese, ma è un inglese classico da Free Aligan è un inglese praticamente scolastico, alla portata di tutti anche perché il loro manuale li vendono in tutto il mondo e quindi deve essere comunque di facile comprensione e di facile lettura veramente molto interessante, ve ne parlo a breve, dopo la sigla Death in Space, come ho detto poc'anzi, gioco edito dalla Free Aligan è un titolo veramente interessante in un'ambientazione sci-fi, horror, spaziale ma non è tanto prettamente un horror, è più un'ambientazione spaziale Koopa un po' alla Dune, se vogliamo, però anche dai tratti horror come potrebbero essere Dead Space o anche fra le tante rappresentazioni, fra le tante idee che hanno usate, si trova nelle prime pagine, per fare questo gioco di ruolo troviamo anche una specie di Space Cowboy o Western spaziale mi viene in mente alla Cowboy Bebop o anche il capolavoro di Firefly quindi comunque è un'ambientazione spaziale oscura in cui la storia principale ci racconta che noi siamo alla fine dell'universo noi stiamo vivendo gli ultimi tempi tempi che dureranno milioni, se non, anzi, miliardi, se non triliardi di anni perché lo sapete anche a livello scientifico, si pensa a livello teorico che giustamente, ora anche a livello scientifico, ci sia stato un grande Big Bang all'inizio della storia e dopo questo Big Bang si è formato tutto l'universo conosciuto, galassie, sistemi solari, costellazioni e quant'altro e che l'universo sia sempre in espansione, quindi l'universo è ancora più grande ecco, questo gioco racconta che invece arrivato al massimo della sua espansione si sta iniziando a contrarre e a ridurre fino a che non diventerà un effetto opposto del Big Bang ovvero il nulla cosmico, andrà completamente a mangiarsi, a implodere e a scomparire completamente e noi stiamo vivendo, diciamo, gli ultimi tempi di questo universo quindi un'ambientazione un po' apocalittica in questo sistema dove praticamente c'è stata una grande battaglia come racconta Tipo Dune perché in questo sistema sono state ritrovate delle gemme durante la guerra delle gemme, la Gem War che erano molto importanti per dare carburante e soprattutto modo e energia alle navi per fare salti nell'iperspazio e per andare a visitare tutto quanto l'universo conosciuto quindi riuscire a sforare anche fuori da una galassia quindi proprio di viaggi interstellari di veramente miliardi di anni di distanza anni luce, ovviamente si sta parlando e quindi dopo questa guerra, la guerra è finita però questo spazio è totalmente, soprattutto questo sistema, totalmente distrutto o almeno nei sistemi solari limitrafi quelli dove un tempo c'era questi imperi e queste fazioni in guerra ed è bella come ambientazione, un po' ricorda anche The Expanse perché è un'ambientazione sì molto scientifica però allo stesso tempo quello che voi trovate sono relitti nello spazio Space Alka, la Warhammer 40.000 ed è bello perché niente viene più costruito ormai le risorse sono finite dopo la grande guerra c'è una crisi bestiale a livello di sordi governativa ed organizzazioni di fazioni quindi praticamente tutto quello che viene trovato viene trovato in giro per lo spazio infatti c'è un esempio bellino se due navi si incontrano di due fazioni rivali per farsi battaglia difficilmente si spareranno piuttosto si abborderanno perché anche se la nave A vincesse sulla B e la distruggesse è una perdita perché magari riservano parti di ricambio quindi tutto quello di cui avete bisogno nell'avventura armi, parti di ricambio per la vostra nave che dovete costruire per la vostra base stellare per il vostro equipaggiamento è tutto scavenge nello spazio magari interi e veri e propri cimiteri di navi e di stazioni abbandonate che dovete andare a scavengeare quindi un gioco avventuroso a livelli estremi regolamento semplicissimo che lo aveva da descrivere ma è il più semplice mai visto ancora più di quinta edizione da cui prende tante idee e questo regolamento qui c'è il discorso del void dell'oscurità un po' preso anche da se vi ricordate Coriolis portato in Italia dalla Weird Edizioni che tra l'altro saluto e ringrazio ancora una volta che l'oscurità delle stelle nasconde delle creature strane un po' la Dead Space e infatti anche qui c'è un bel bestiario dove ci sono diverse creature che dovrete andare ad affrontare quindi mostri, alieni e cose del genere in un'ambientazione che si chiama morte nello spazio non potresti non mettercele che richiama un po' Alien, Dead Space o altre cose del genere anche punto di non ritorno per creare il personaggio dovete tirare un dado A un dado B per le sue 4 caratteristiche e dal dado A levare semplicemente il valore del dado B e avrete il valore della caratteristica poi ci sono ovviamente anche abilità legate alle caratteristiche e per fare un tiro per vedere se ho superato una prova tirate un di 20 la difficoltà è sempre 12 non cambia la difficoltà di ogni prova è 12 però ci possono essere vantaggi e svantaggi vantaggio tirate due dadi da 20 e selezionate il migliore svantaggio ne tirate due e prendete il minore D&D quinta edizione ma è un sistema che non mi sento di dire D&D lo stanno un po' adottando tutti fondamentalmente quindi ha fatto scuola ha dato idee e quando andate a fare la prova tirate un dado da 20 ci sommate o ci sottraete il vostro livello di caratteristica che può essere negativo perché magari a sparare vi è venuto un meno 1 tirate il dado da 20 ho fatto 17 meno 1 16 è più alto di 12 ho superato la prova per attaccare un nemico guardate la sua classe armatura magari un nemico ha classe armatura 14 voi dovete fare 14 o più fine del regolamento poi ci sono le regole per guadagnare punti oscurità punti void per avere mutazioni in stile Warhammer 40.000 guerrieri del caos perché vi potete anche potete essere avvolti e corrotti da questa oscurità che vi andrà poi dopo a portare a modificare proprio l'aspetto del vostro personaggio non soltanto a livello mentale e tutto però anche a livello fisico e quindi come regolamento è veramente molto facile un pochino più complesso non difficile ma complesso le battaglie fra navi o la gestione delle stazioni perché voi nel gioco vi dovrete costruire la vostra nave spaziale o la vostra stazione e andare in giro sempre a scavengiare moduli per ampliarla che ne so modulo di dell'ipersonno come ad esempio o a bordo per avere una serra oppure avere un modulo per l'ossigeno oppure avere il cockpit da cui navigare oppure avere una stanza dedicata alla realtà virtuale per degli addestramenti o perché no anche una stanza delle armi un'armeria o una medicheria sono tutte cose che dovrete costruirvi pagandole con dei soldi o guadagnandole andando in giro praticamente per lo spazio a scavengiare in poche parole questo detting space a cura della Fria Liga è un regolamento piccolino perché vedete cioè alla fin fine sono non sono nemmeno tante pagine sono tipo 120 pagine piccolino contenuto quasi tascabile ma c'è tutto quello di cui avete bisogno per giocare a tutto ve lo dico tranquillamente senza nascondermi potete anche prendere questo e ambientarci Alien potete prendere questo e ambientarci Dead Space oppure anche magari un punto di no ritorno o perché no un rammer 40.000 si ha le sue razze ha la sua ambientazione ha le sue classi ha le sue cose ma è un attimo modificarle cioè una classe e una razza sono due valori due bonus invece di chiamarlo a lo chiami Space Marine invece di dargli quell'abilità lì gli da l'abilità due cuori ed essi non conosceranno la paura è fatto un rammer 40.000 quindi ad adattarlo ci vuole veramente veramente poco come detto titolo interessante ringrazio la Fria Liga se lo volete ordinare primo link in descrizione ribadisco per ora soltanto in lingua inglese ma è scritto veramente molto molto semplice ed è un regolamento alla portata di tutti per gli amanti sia delle single shot delle one shot che perché no anche di vere e proprie campagne un titolo ragazzi molto interessante se amate lo spazio come me non ve lo fate scappare ciao a tutti alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima